Sono 1.942 positive e 152 guariti in Sicilia e questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 17 di giovedì 9 aprile in merito all'emergenza coronavirus così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 28.742 rispetto all'altro ieri 1.304 in più. Di questi sono risultati positivi 2.232 più 73 mentre attualmente sono ancora contagiate 1.942 persone più 49, 152 sono le persone guarite, questo è un dato in aumento più 19, 138 le persone decedute e 5 in più. Degli attuali 1.942 positivi 629 pazienti sono ricoverati di cui 63 in terapia intensiva che continua a svuotarsi, meno 2 mentre 1.313 sono in isolamento domiciliare con un aumento di 48 unità. Questi i casi di coronavirus sono riscontrati nelle varie province dell'isola. Agrigento 112, Caltanissetta 99, Catania 574, Enna 282, Messina 347, Palermo 295, Ragusa 51, Siracusa 82, Trapani 100. Il prossimo aggiornamento verrà stasera. Per quanto riguarda il confronto delle province siciliane, i guariti si registrano a Trapani e Siracusa. Agrigento oggi 112, ieri 110, più 2. Caltanissetta oggi 99, ieri 94, più 5. Enna oggi 282, ieri 279, più 3. Palermo oggi 295, ieri 286, più 9. Trapani oggi 100, ieri 101, meno 1. Messina oggi 347, ieri 330, più 17. Catania oggi 574, ieri 560, più 14. Siracusa oggi 82, ieri 84, meno 2. Ragusa oggi 51, ieri 49, più 2. Questa invece è la ripartizione a livello provinciale, così come diffuso dal report dell'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Su 2.032 tamponi effettuati, il numero di tamponi positivi sono 102. Agrigento 11, Aragona, Caltabellotta e Camastra 1. Campobello di Riccate e Canicati 5, Favara 4 casi, Lampedusa Linosa 1, Riccata 8, Menfi 10, Montallegro e Naro un caso a testa, Palma di Montechiaro 9, Porta Empedocle 5, Raffadali 3, Ravanusa 2, Ribera 8, Santa Margherita di Berice 3, Sciacca 22, Siculiana 1. La ripartizione delle persone ricoverate negli ospedali di riferimento, un ricoverato a Caltagirone, 5 a Caltanissetta, 1 a Denna, 1 a Marsala, 1 a Messina e 2 a Partinico.